Torna Diritti a Colori, il concorso internazionale di disegno più colorato che mai. Se hai dai 3 ai 14 anni, partecipa anche tu. Scopri come fare sul sito www.dirittiacolori.it. In pallio tanti premi e un meraviglioso soggiorno in Europa. Ti aspettiamo domenica 20 novembre al Palabam di Mantova per la grande festa. Concorso Diritti a Colori, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Malagutti Onlus per sostenere i diritti dei bambini e celebrare la giornata universale dei diritti dell'infanzia. Grazie.